Ebbene, carissimi amici, siamo alle porte del nuovo mese di novembre 2022, arriva il mio 90 segreto, due ambisecchi per tutti, puntuale, come ogni mese, pronto ancora una volta a sbancare il mio 90 segreto, previsione da prendere in massa tassativa. Non si può perdere una giocata del genere che ha sfornato due ambi nel giro di una settimana, con questa previsione si sbanca ogni mese, due ambi su tre ruote con il favoloso 90, due ambisecchi magnifici, sono due ambi, dare due ambi in un mese e vincerli tutti e due è qualcosa di stratosferico. Non ho dato dieci ambi, due ambi all'ottobre 2022, sono usciti entrambi. Attenzione, novembre 2022, le tre migliori ruote per il 90 sono le seguenti. Cagliari, Genova e Torino. Su queste tre ruote vedrete arrivare un grandioso 90. Attenzione, allarme rosso, ambata secca 90, Cagliari, Genova, Torino, anche quarta e quinta posizione per il mese di novembre. Avremo due ambisecchi, potentissimi, ve l'ho dimostrato ampiamente, la forza di questo elaborato. Due ambisecchi da giocare su tre ruote con il 90, con la modalità vincita venuta, quindi pagamento soltanto se uscirà uno di questi due ambi sulle tre ruote, come è successo nel mese di ottobre. Se facciamo una carrellata, a luglio abbiamo vinto l'ambosecco 90-38 a Genova, il 16 luglio, un 90 che è poi uscito sia a Cagliari, sia a Torino e poi di nuovo a Genova, perché le ruote erano Cagliari, Genova, Torino, le stesse che abbiamo a novembre. Ad agosto esce l'amboso nazionale, 90-68 alla grandissima, settembre 90-32 a Firenze, il 15 settembre, ad ottobre sbanchiamo alla grande con il doppio ambo, 90-44 a Napoli il 22 ottobre, dopo una settimana, 90-48 a Venezia, 29 ottobre, due ambisecchi vinti da tantissimi di voi che hanno seguito le mie indicazioni. Questi cari amici sono esiti pazzeschi, queste sono cose che non trovate da nessuna parte, negli altri canali potete trovare le pagliacciate, gli show, quelli potete trovare. Qui da me si trovano i fatti reali, le vincite vere e documentate. Mi raccomando a prendere assolutamente questa giocata mensile con il 90. O via mail potete contattarmi o via whatsapp, 348-75-47715. Dobbiamo essere ancora di più su questa previsione. Questa previsione è diventata il punto di riferimento assoluto per il 90. Lo posso dire senza smentita, senza ombra di dubbio, senza paura che il mio 90 si è credito il punto di riferimento assoluto per vincere il 90 ogni mese. Vi do le tre migliori ruote dove giocarlo con solo i due ambisecchi. Queste sono le testimonianze di settembre, 32-90 a Firenze e di ottobre il 90-44 a Napoli, 22 ottobre il 90-48 a Venezia il 29 ottobre. Questi sono stati gli esiti incredibili di questa favolosa previsione. Mi raccomando, numerosi contattatemi per prendere il nuovo 90 segreto del mese di novembre 2022. Cagliari, Genova e Torino. Ci prepariamo ad un'altra grande vincita. Speriamo che possiamo andare a realizzare un altro bellissimo ambosecco a ruota secca. Per adesso saluto a tutti, Mister Sbancolotto.